Bentornati su MyFootballJersey. Oggi facciamo la comparazione della prima maglia dell'Al Nasser per la stagione 22-23 in versione fan, che è quella che indosso, e in versione player. Mi raccomando, guardate il video fino alla fine perché vedrete la diversa vestibilità di queste due maglie. Ci vediamo dopo. Le due maglie sono molto simili da lontano, ma da vicino presentano delle differenze. Come al solito, lo stemma del club e quello dello sponsor sono nella versione player termosaldati, mentre nella versione fan sono ricamate. Molto diverso anche il tessuto, peraltro nella versione player è presente questa lavorazione, questa trama laterale, che nella versione fan è completamente assente. Altra differenza che c'è tra la versione player e la versione fan è sull'orlo del colletto delle maniche. Quello della versione player è sicuramente più lavorato. Avete visto il video? Allora, se da lontano le differenze non sono tante, da vicino un pochino si notano. Questa che vedete è la versione fan, quindi la versione dedicata ai tifosi. Ha una vestibilità un po' più comoda. Di questa vi consiglio la taglia che indossate normalmente. Io ad esempio di questa indosso una media. Questa invece è la versione player, quella indossata dai calciatori. Questa ha una vestibilità più ridotta e più sfiancata, quindi se non avete un fisico atletico come quello dei calciatori, vi consiglio di prendere una taglia più grande. Questa ad esempio è una L. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo che in descrizione, qua sotto, trovate il link alle recensioni di queste due maglie. Ora, prima di lasciarci, io spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Fatemi sapere cosa ne pensate e quale altre maglie vorreste vedere in futuro. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima!